ecco la cattiva notizia è che sei sempre bruciato sei nella lista nera degli aeroporti e i tuoi beni sono più congelati di un iceberg e la buona notizia la buona notizia è che quando sei bruciato sei stato bruciato sei sulla lista nera chi cerca di acciuffarti può scontarsi e farsi molto male duro a morire terza stagione ogni venerdì alle 23 su fx grazie